E' importante questo. Siamo rimasti stupendo i due di nuovo. Ciao, eccoci. Ciao, ciao. Che audio di merda è? Ah, voi non mi sentite? Ah, non mi senti? Sì, la cazzo la presi, sì. Mi senti? No, questo no, no, non condivido. Ma mi senti o siete fake? Guarda che c'è un'ombra dietro di te! Sì, la cosa di sorda. Ma dove stai? Ma dove stai? Ma veramente non mi sentono? Mi sentono o no? Perché non si sente l'odore. Eeeh, mi senti? Sì, coca stinta. Mi senti? Prova! Mi senti? No, no, io non ho scritto il preso di questo ragazzo. Ma mi senti o no? C'è un'ombra dietro di lui. Non ti sentiamo. Mi sentite la mia bocca? Si sente? O no? No? Ma perché? I ragazzi che scrivono i commenti. Sto crepando. Ma scusa. Ma io lo sento. Ma io lo sento bene. Messo e senti? Sto piangendo. Ah, ma non ho messo dei messandini. Ma non c'è la mia bocca! Ti sentiamo, ti sentiamo, Matteo. Ti sentiamo bene. Ti stanno prendendo in giro loro. Ma loro si prendono i situbote! Aaaaaah! 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 Sì, secondo me anche. Gli hanno rubato la voce. Aaaaaah! Ma che è? Sibilla! Gli occhi fuori della testa. Oh, adesso si sente. Sibilla! Oh, si scende? Si scende. Aaaaaah! Aaaaaah! No, ma Matteo! Ti sentiamo! Ti sentiamo, Matteo! Aaaaaah! Così sì. Ok, ok, ok. Ma come così sì? Ma cosa cambia da così a così? Eh, me stavate prendi per il culo! Stavi chiedendo? Eh, ma che me stavate a prendi per il culo! Mi stavate a prendi! Non mi stai dicendo per la laccia. Di qualcosa, Matteo! Alla, andiamo! Oh, lo stanno beffando di per il culo! Allora, mi stai beffando! Allora, non è feca! Allora, non è feca! Ma... Ma scusate, ma... Sibilli... Questo non fa per lavoro. Io leggo i commenti, così rispondendo da casa ci portate. Pronto? Allora, trollano! Ma figurati se trollano! Ma va! Ma figurati! Aiuto! Megafono! Ma senti... Sibilla Martina! Incredibile! 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 Che buffoni! Ma dov'è lei presi sti due? Ma dov'è si è trovata? Perché è uno scherzo... No, ma non capisco se mi stai piando per il culo, perché... No, scusate se ci stai piando per il culo! Ma ci vanno talmente eroci i commenti, ciao! Ma tu ma senti green! Io ti sento Matteo, ti sento e come? Ci sentite a noi, vero? Sì! Comunque prima avete chiesto dei beat e vi parla lui dei beat... Ma c'è frega un cazzo! Voglio... Ma non ci sentono! No, ma stai impazzendo! No, ma Matteo stai impazzendo, non capisco! Come no? Che fanno l'oroscopo? Che sono sti due? Che fanno? Allora... Se il direttore generale... Martina, parla! Martina! Martina! Ehi! Mi senti? Sì, io ti sento! Martino, certo! E allora mi sentissi due, dai! Un video pre-registrato, green! Dai! Quali sono pre-registrati? Non sono pre-registrati, Matteo te lo giuro! E allora è impossibile! Come fanno un zondino? Allora mi stanno a piare per il culo! E no, mi sa che stai impazzendo! Un zondino! Aspetta Matteo! Matteo, Matteo, ti sentiamo, non è quello il problema! Mi sa che non sentono loro! Oppure ci stanno impiando per il culo! Le alternative sono... Sono due! Mi stanno a prendere per il culo! No, ma secondo me no! Cioè, secondo me non stanno a prendere in giro! Cioè, secondo me non sentono davvero! No, no! E noi non lo vediamo, Matteo! Lo vediamo che sia agito! Ma capito, ma sto parlando! Arie! La mia risposta! Io mi sto agitando! Ma tu me senti? A mezzo, tu me senti, mezzo! Io ti sento, Matteo! Matteo, ti sento io! E allora sti due che non me sentono! Io spero che... No, ma scusa, io spero che non ci sentano! Se vabbè ora non si sente anche Simone, avrei fatto apposta palesamente! No! Siamo tutti a Canne e Matteo! Ah, quindi a voi e noi ci sentite! Quindi Simone l'avete completamente blastato prima! Ma Simone sta parlando, non si sente! No, ok, mi ero mutato per sbaglio! Ma io stavo parlando prima e non mi hai sentito! Prima stavo parlando Simone! È un bugger, ragazzi, non lo so! Sibilla! Dimmi! Dimmi! Io mi sento! No, ci siamo iniziati piano per il culo, chiaramente! Se si agita, ma non lo sentiamo! Ma com'è possibile che non lo sentiate? È impossibile che non lo sentiate solo lui! È così! Non lo sentiamo! Ah, non lo sentite? Ma Matteo, sei tranquillo! Ma Matteo, sei tranquillo! Sei tranquillo, Matteo! Non ti agitare! Non ti agitare! È lui? È certo che lo sentiamo lui! È qui! E allora ha qualcosa di paranormale in casa! Niente! Come mai prima che si è acceso la luce da qui, hai visto? In macchina si è acceso la luce da sola! Anche a me ogni tanto mi si alza da solo senza che io veda niente! Ah, cazzo, non l'avrei detto! Non l'avrei proprio detto! Ma tanto? Succede tanto? Ciao! Dai, mi succede spesso, però tipo nei momenti in cui non dovrebbe succedere, purtroppo! Che schifo, Vezze, come al solito, la tua figura di merda la devi fare! Ma guarda che non è una figura di merda, purtroppo è un effetto paranormale che ogni tanto capita! No, è fisiologia del corpo umano! Immaginao! Ma cercate... Risolviamo sta cosa che non sentite Matteo, perché Matteo lo vedo già abbastanza incazzato, quindi non vorrei... Ma non è incazzato, non capisco perché non mi sentono, ma fanno apposta! Di cosa si occupa Matteo? Matteo, tu sei esperto di preservativi! Eh? Ho un'azienda che produce preservativi! Non so, ha detto qualche parolaccio! No, ma in realtà non ha mai detto una da quando è entrato un ragazzo! No, ma Matteo è un religioso, un... Ma che c'entra, un religioso parolaccio che c'entra, c'è! Lei così come uno me lo scrive, di cosa si occupa Matteo? Ma no, ma... Matteo rispondi! Ma perché non lo sentite? Avvicina bene il microfono in bocca Matteo, metti bene in bocca il microfono! PORNOLOGIA! PORNOLOGIA! Matteo, mio figlio ha scritto che se lo adotti, te lo do volentieri che manco un ventino lo prendi! Lo vuoi? Che sei? Ma che non vuole tuo figlio? Ma che non vuole? Ma che non vuole? Ma te ne te lo... Ma vedi che sente? Ma sente! Ma no, dalle gestualità sei capito le umiliità Matteo! Quanti anni ha? Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ne ha quindici! E allora cos'anni? Che surdo! Assurdo! Ma no, ma lo santi! Matteo, ti ha preso per il culo finora... Ti ha preso per il culo tutti finora! E allora me sento, sta a faffino di non sentire questa! Sì, dai, su! Porca miseria! Ma il troll è in fine, dai, su! Ho capito, ma non capisco di chi sia il troll! Il mio non è! Ma mo' non li sento io, però! Non parla, no? Lo stanno parlando, Matteo! Guarda anche la bocca, cazzo! No, aspetta, Sibilla! Sibilla, no! Puoi dirci... Puoi dirci se stavate prendendo per il culo Matteo HS? Che lui è molto sensibile! Assolutamente no! Non lo sentiamo proprio! Cerco di leggergli il labiale, ma sono anche un po'... Voglio avete ancora una risposta! Adesso il labiale ha detto! Adesso il labiale ha detto! Che avete abusato Matteo! Cerco di leggere il labiale di Matteo! Mi sa che non sentono neanche Cristina! Porca miseria! Cristina parla! Ma chi leggere il pensiero? Capisci! Cristina fagli una domanda! Mi senti? Mi sentite? La chat dicono che avete abusato Matteo! Abbiamo abusato Matteo! Ah ok! Meno male! Allora, facciamo un test! Vez, fai una domanda! Di che colore era il cavallo bianco di Garibaldi? Verde! Bene! Lasagna, fai una domanda! Come state? Risponi tu su te! Risponi tu su te! Ripone! Direi non molto bene! Rifai un'altra un'altra! Ehm... Cosa avete mangiato? Non devo fare la domanda adesso Leggami le tette di un sacco di merda Vai lasagna Vai Ma chi? Io? Eh sì, è lasagna E appena ho fatto i due Eh ma non le ha sentite, riproviamo Ah ok Come vi chiamate? Non si senti Perché era un pugno allo schermo Ma scusate, voi mi sentite? Sì, io no Io non la sento raga No dai, se non metterti anche tu Ti giù ti do un cartone in bocca Ok no, Cristina Dan Almond, fai una domanda a loro Come si chiama Napoleone di cognome Gari Baldi Vabbè Come state Sibilla Ego, come state? Ma ho chiesto come si chiama Napoleone Di cognome Ma sì, va bene Ok, allora Quindi Matteo, lasagna Intrattenete una conversazione In cui continuate a fare domande A loro due Vediamo cosa capiscono Va bene Siete sposati? Paromincio con Matteo Prima i signori Siete sposati? Non siamo sposati Siamo solo colleghi Collaboratori Copriti il labiale Copriti il labiale Matteo Quindi Amici tipo Matteo Questa è una domanda importante Ma avete TikTok? Non male che questa domanda non è stata sentita Ce l'avete TikTok? Dobbiamo indovinare Ce l'avete TikTok? Secondo me Ha chiesto Non c'è mai stato nulla Siamo sempre Siamo stati colleghi Avete TikTok? Mi sto agitando ragazzi Ve lo giuro Mi sto Mi sto un attimo agitando Devo sboccare Io non mi sto agitando Però voglio capire No io pensavo che all'inizio fossero fake questi No 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 Sono veri Sono veri No esatto Ok No assolutamente Ci mancherebbe Ma fate Siete cartomanti? Cosa fate nella vita? Non so capendo Cosa fate nella vita? Cosa facciamo nella vita? Lui è un cosa Guarda c'è un lag E poi fai anche Divice del fuoco E io ho un negozio esoterico Di arti del regalo Votici Cos'è l'esoteria? Cos'è l'esoteria? Come siete avvicinati al mondo del paranormale? Tu dovevo faticare che se gli mettete il volume Come vi siete Come vi siete avvicinati al mondo dei fantasmi? E tutti i video li vedete sul suo canale YouTube Dai Ghostbuster la risposta Lasagna È Ghostbuster Cos'è? Cos'è l'esoteria? No e legge le carte Matteo Fa cartomanzia Ah ok Quindi è vero E' vero fare l'oroscopo E' in più un negozio Cos'è l'esoteria? No